Buonasera, calcio, Mantova sprecone e il Lecco ne approfitta. Una beffa in coppa che può servire da lezione per il campionato. Prendendo questa sconfitta con filosofia spicciola, meglio che sia capitata ora che in campionato. Il Mantova ci ricorda che il calcio è strano. Nei primi 11 minuti ha buttato quattro limpide occasioni da rete. Nella ripresa ha scialacquato altre palle gol, mentre il Lecco la palla l'ha buttata dentro. Speriamo sia solo un abbaglio d'agosto. Il calcio d'estate serve appunto a mettere a fuoco le debolezze e a lavorarci sopra. Tra Del Sante e Noman è una gara a Ciapano. È un vero peccato buttare nell'immondizia i palloni preziosi confezionati da Spinale. E neanche Bompieri se ne dà pace in tribuna. L'allenatore del Lecco si accorge che sulla fascia destra il capitano del Mantova ha troppa libertà. Prende allora le contromisure e la partita si fa più equilibrata. Anzi, è il Lecco più di una volta a far similare palloni dalle parti di Bellodi. E l'eterno Mirko deve metterci la solita pezza su punizione al curaro di Mattaboni sfiorata da Fabbro sotto misura. Nel secondo tempo ricomincia la grande abbuffata, nel senso che il Mantova torna a mangiarsi i gol fatti, con Noman e con Franchi. A dire il vero un gol, il Mantova lo segna, ma in fuorigioco con Del Sante. I cambi di Graziani sono esercizi tattici, ma sono anche dettati da una condizione ancora approssimativa di alcuni giocatori. Entra Vignali e pecca d'altruismo, volendo offrire a Ciccio Graziani l'assist vincente. Ma la spia ormai segna rosso, come nel secondo tempo di Bolzano. E allora Rebecchi si traveste da Tarana, che anni fa si inventò un gol uguale identico. Vale a dire un capolavoro che gela il martelli, anche se la temperatura è torrida. Manca ancora un quarto d'ora abbondante, considerato il recupero. Ma la gara finisce qui, una lezione salutare, prima che suoni la campanella del campionato. Pur sconfitto, il mister Graziani è soddisfatto della prestazione della squadra, ma monisce in questa categoria. Chi sbaglia paga, sentiamolo. La mare in bocca per la sconfitta c'è in Casamantova. Per il clan Bianco Rosso i punti virgiliani meritavano senza dubbio la vittoria. Ma troppi sono stati gli errori in fase realizzativa. Il ramarico è solo quello di non aver capitalizzato tutto prima. Poi per il resto io sono... A questo punto della stagione, in questo momento qui, io sono molto contento dei ragazzi, di quello che stiamo facendo. Dobbiamo ancora lavorare molto, soprattutto per sostituire gli undici che poi l'altro anno ci hanno portato alla vincita del campionato. E voglio portare questi ragazzi qui al livello degli altri. Sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso anche Davide Bersi, inserito ieri nell'inusuale ruolo di centrocampista esterno. No, c'è rabbia e ce n'è anche tanta perché penso che quando crei tanto e non riesci ad andare sopra e poi perdi la partita c'è rabbia e c'è rammarico perché esci dal campo con zero punti quando ne avresti probabilmente meritati tre. Però insomma questo ci serve da lezione per il futuro. Decisamente più soddisfatto è il presidente del Mantova, Bruno Bompieri, radioso per la prestazione dei suoi. Ma io ho visto un buon manto, adesso sembra retorica perché perdere 1-0 e dire che ho visto un grande manto sarebbe una cosa storta. Però secondo me come trame di gioco e come anche l'attacco ha creato molto oggi, purtroppo abbiamo sbagliato troppo. Però credo che tanto siamo in Coppa, alla fine eravamo un po' cotti perché abbiamo corso molto il primo tempo, abbiamo dato molto. Dopo quei cambi, onestamente, siamo andati un po' in tic. Però credo che il Mantova faccia strada così.